E' durata sette mesi la direzione generale di Paolo Rolleri alla ASL di Teramo. Ieri il dirigente genovese ha rassegnato le proprie dimissioni ufficialmente per motivi personali. Andrà a lavorare a Milano, molto più vicino a Genova dove ha lasciato la famiglia. Strano però che Rolleri si sia accorto dopo sette mesi di quanta strada debba fare ogni settimana per recarsi al lavoro, se vuole andare a trovare la famiglia nei weekend e soprattutto che a Teramo avrebbe trovato una situazione non facile. Strano anche che queste dimissioni giungano all'indomani della vittoria del centrosinistra alla Regione, dove Luciano D'Alfonso ha sostituito Gianni Chiodi alla guida dell'Abruzzo. Rolleri è stata una scelta di Chiodi che qualche mese prima della fine del 2013 aveva scaricato l'aquilano Giustino Varrassi alla guida dell'azienda sanitaria teramana per affidarla al genovese. Certo, un direttore generale della ASL non è che debba andare a fare la guerra tutti i giorni, così come aveva fatto Varrassi negli ultimi mesi della sua gestione, ma quantomeno avrebbe potuto dimostrare una capacità di resistenza maggiore rispetto a quanto fatto da Rolleri. Siamo certi che Varrassi difficilmente avrebbe mollato così il mandato, ma siccome, come sempre diceva Giulio Andreotti, a pensare male si fa peccato ma ci si azzecca sempre, non è che Paolo Rolleri ha mollato la Cadrega, sedia in milanese e così si comincia ad abituare al nuovo idioma, per chi ha sentito puzza di bruciato? Nel senso che la volontà di accorpare le ASL facendone due, vale a dire Teramo l'Aquila e Pescara Chieti, sia più concreta di quanto si pensi e che magari il suo posto traballava, e così ha colto l'occasione al volo e ha preferito la Lombardia oggi che la disoccupazione un domani molto vicino. Forse è proprio così e per questo la sua sostituzione forse non sarà così imminente, oppure si andrà verso una scelta temporanea in attesa che le ASL vengano accorpate. Dal 31 luglio, giorno in cui Rolleri lascerà l'incarico, molto probabilmente se ne saprà molto di più.